Sindaco, ricordiamo che è vietato vendere alcol ai minori? Gravemente vietato, non soltanto perché lo stabilisce la legge, ma perché veramente si tratta di un'azione inaccettabile nei confronti dei nostri figli, dei nostri ragazzi. Non è tollerabile che si faccia commercio sulla pelle e sulla salute dei nostri ragazzi minorenni. È gravissimo, è gravissimo quello che si è verificato, che si sta verificando purtroppo da troppo tempo e su questo assolutamente abbiamo lanciato già da diverse settimane un messaggio chiaro di tolleranza zero. Ieri cosa hai visto, ieri sera? Ieri ho visto una situazione brutta, triste, illecita, con i nostri ragazzi ai quali va lanciato un segnale assolutamente diverso. Un segnale che va nella direzione che non è questo il divertimento, non è questa la forma di divertimento che devono perseguire. Lo stare insieme non può passare attraverso i luoghi all'interno dei quali si somministra alcol ai nostri minorenni. È un'azione che dobbiamo intensificare, noi come istituzioni, ma io penso alla comunità tutta. Penso alle famiglie, penso alle scuole. Siamo solo all'inizio, ma che avvengano queste cose nella nostra città, come in tante altre città italiane, non ne possiamo permetterlo. Proseguirò questa azione anche come sindaco tra i sindaci, perché io penso che un'azione di questo tipo, al di là delle competenze, insomma, e dialogo con le forze dell'ordine che ci danno sempre un supporto, e continueremo a crearlo e costruirlo, questo percorso sinergico, il messaggio che può mandare un primo cittadino, ogni primo cittadino, in questo senso, è veramente onnicomprensivo. Sia un messaggio di autorità, ma anche di autorevolezza, soprattutto di educazione di una comunità che vuole dare segnali diversi. Tutti insieme, istituzioni, famiglie, scuole, forze dell'ordine, per costruire un percorso diverso, un futuro diverso per i nostri ragazzi.